Al via anche la stagione di basket femminile con il primo impegno ufficiale per la Credi Agricola Spezia che debuterà in Coppa Italia di Serie A2 con le Final 8 in programma dal 25 al 27 settembre al Palainaudi di Moncalieri. In virtù dell'assenza di Campobasso neopromossa in Serie A1 a partecipare alla manifestazione è stata chiamata la squadra del Cuscagliari quinta forza del Girone Sud al termine dell'andata della scorsa stagione. In questo modo però sono cambiati anche gli accoppiamenti del tabellone con la cestistica che salita al secondo posto andrà a sfidare la terza classificata del Girone Nord ovvero Alpo-Villa Franca. Questo è il programma completo, quarti di finale venerdì 25 settembre alle 14 Credi Agricola Spezia contro Drain by Ecodem Alpo. Semifinale sabato 26 settembre alle 20.30 tra la vincente di Moncalieri-Cuscagliari e la vincente tra La Spezia ed Alpo. La finale si disputerà domenica 27 settembre.